Supernova è il film di Harry McQueen che ci accompagna con Stanley Tucci e Colin Firth in un viaggio letteralmente anche fisicamente nello spazio, ma un viaggio anche nell'interiorità di ognuno di noi. Affronta un tema centrale in questo momento del dibattito sociale in cui si parla molto di eutanasia, anche se il film non tocca direttamente l'eutanasia nel senso istituzionale del termine, cioè non c'è nessun ospedale preposto o scelta di andare in un centro per l'eutanasia eccetera, ma c'è il desiderio del personaggio di Stanley Tucci di porre fine alla propria vita a causa di una malattia che lo sta menomando sempre di più nelle sue facoltà cognitive. Naturalmente il tema è forte, è in grande entrata dal punto di vista del dibattito e quindi è molto interessante ogni lavoro che viene fatto su questo perché è come se il mondo si stesse interrogando su che cos'è l'esistenza che stiamo attraversando e sul nostro ruolo rispetto all'esistenza che attraversiamo. Poi arriviamo a parlarne un po' meglio. Dall'altra parte, narrativamente, questo tema è fatto scorrere su un binario in forte tendenza, dobbiamo dirlo questo, cioè la storia sentimentale, affettiva, omosessuale. Questa è naturalmente un carrello che in questo momento sta correndo molto dal punto di vista del marketing e della quantità di storie che vanno in questa direzione. Dunque sembra un'operazione che sicuramente ha del cuore ma certamente ha anche molto cervello, ha anche molta strategia ed è anche molto confezionato. Ecco, questa confezione mi ricorda un po' Falling di Mortensen, se vi ricordate ne abbiamo parlato pochi giorni fa, ha un po' lo stesso tratto, cioè il tratto di essere calligrafico, confezionato, composto, carino, sempre molto giusto. Naturalmente quando io apro la camera davanti a uno di questi due, che sia Stanley Tucci o che sia Colin Firth, quello che vedo di solito è un gran bel recitare, quindi certo è un film di grande recitazione. Io però questo me lo aspetto di base, se il cast è quello lì, non ho bisogno di essere sorpreso da questo, avrei bisogno di essere sorpreso e rivelato e rivoluzionato dentro di me da ben altro, ahimè, cioè per esempio ancora una volta dall'aspetto della sceneggiatura. Il film così calligrafico, così composto, è un film che indica le emozioni sullo schermo, ma queste emozioni non hanno mai la forza di scendere in sala e di venire a farsi pericolose accanto alla tua sedia, dentro la tua pancia e veramente di ribaltarti. Perché? Perché continua a essere molto forte l'affermazione che si tratta di un film. Anche una scelta di questo tipo ha un suo senso, cioè io ovviamente si capisce, non amo tantissimo, questo tipo di soluzioni. Mi sembrano tutte uguali, molto standard, molto tiepide, molto prudenti e se non rischiamo almeno quando raccontiamo le storie ragazzi non lo so. Però riconosco che ha anche una sua funzione. Perché? Ma perché per esempio c'è una differenza tra il drammatico e il tragico. Cioè il drammatico ha ancora un conflitto in essere. È ancora lotta. Il tragico è, come dire, risolto. Lo sappiamo che è così. Sappiamo il finale. Non c'è bisogno di essere lì con una tensione. No. Dato per fatto che le cose devono andare a finire in quel modo, cosa possiamo dirci di noi? Cosa possiamo fare di noi? Allora ecco che la dimensione più tragica è una dimensione che rinuncia a questo conflitto intestino più psicologico, più realistico, più aderente alla realtà quotidiana e che la rinuncia a questo conflitto così intestino e così sanguinante di certi film che ci prendono alla gola e alla pancia, comporta anche un maggior spazio di proiezione per le nostre vite personali. Invece vedere per esempio, non so, mi vengono in mente i film di Winterberg. Quei personaggi lì mi vengono in mente anche quando ho la prima Susan Beer. La prima Susan Beer. C'è quei personaggi che, sì, li hai incontrati in un film, ma erano persone vere. Ecco, questo mi manca. Mi manca un po' in questo scarto qui. Credo che un tratto importante del film, della scrittura di questo film sia il tempo continuato, cioè ci sono pochissimi salti, pochissimi stacchi in avanti, ma veramente anche, veramente lo sono in modo molto contenuto di qualche ora. Per esempio andiamo a letto la sera, stacchiamo sulla mattina dopo, però magari transitando da un paio di inquadrature notturne. Questo ci dà la sensazione di essere dentro il tempo che continua. Questa è una scelta giusta. È gente che il cinema lo sa fare e lo sa fare molto bene. Perché è giusta questa scelta? Perché è quel tempo lì quando non passa mai. Quel tempo lì quando gli eventi non ti aiutano, perché non succede nulla. Come possiamo progettare un tempo che non può essere progettato? Perché il nostro corpo non ce la fa più? Perché il destino ha deciso per noi? Che il tempo sta finendo? Perché non abbiamo più le forze, le risorse, le relazioni per poter progettare qualche cosa. Ci sentiamo afflosciare, ci sentiamo morire. Ma perché? Anche per il fatto che i nostri progetti sono fatti per noi, ma sono realizzati fuori di noi molto spesso. Quasi sempre sono realizzati. Voglio sposarmi l'anno prossimo, voglio comprare una casa, voglio cambiare lavoro. Sono tutte cose che noi abbiamo nell'interazione col mondo, con l'esterno. Quando questa interazione, per i limiti che abbiamo detto, viene meno per forza, o comunque viene meno progettualmente, si apre una questione. Qual è la zona di me in cui posso ancora progettare? Se noi cogliessimo che il mondo è sempre il nostro mondo, come si vede in questo film, il mondo di questa coppia è questa coppia. Progettare all'interno delle relazioni, progettare all'interno della relazione con sé, riuscire a edificare qualcosa all'interno del nostro sentire. Perché? Perché quando io sono paralizzato su tutti i fronti e sono fermo in un letto, quel tempo in cui non posso realizzare fuori di me, posso sentirlo dentro di me. E due parole anche sulla tematica dell'eutanasia. Eutanasia che, ripeto, non viene affrontata proprio per il diritto, nel senso che non è un'eutanasia rispetto a un ospedale, a uno stato, a un diritto sociale, ma è il diritto umano a porre fine alla propria esistenza rispetto agli altri che la condividono con noi. Ecco, questa è una domanda che il film certamente pone all'interno della posizione che ha, che mi sembra evidente, ma pone questa questione. Cioè, quando tu poni fine ai tuoi giorni, per tutte le ragioni legittime del caso eventualmente, siamo anche consapevoli che stai ponendo fine ai tuoi giorni anche per gli altri, anche a nome degli altri. Cioè, la domanda che sta sotto, posta in un modo un po' retorico, un po' morale, è ma la nostra vita è veramente soltanto nostra? O c'è anche una condivisione della nostra vita per conto degli altri? Se facciamo davvero parte di un tutto, facciamo parte di una famiglia, facciamo parte di una galassia, di un universo, davvero abbiamo diritto di determinare noi? Ecco, il film, un pochino questo diritto, ma non in termini filosofici, ma in termini d'amore proprio. Cioè, il dolore dell'altro lo hai contemplato? Non lo fa in modo disturbante, non lo fa in modo accusatorio, non lo fa in modo giudicante. E questo è bello, questa è una buona, è una buona cosa del film, secondo me, che si difende molto bene. Il film non è una cosa straordinaria, è una grande prova d'attori. Volevo dire una piccola cosa sulla recitazione, piccolo inciso, a mio gusto molto molto personale, ho preferito Stanley Tucci a Colin Firth, anche se mi sono piaciuti entrambi moltissimo, perché Stanley Tucci lavora sulle azioni, sulle micro azioni molto concrete, ed è molto chiaro quello che sta facendo, sta sempre facendo qualcosa di molto preciso. Colin Firth ogni tanto recita l'emozione, e recitare l'emozione è un po' indicarla col dito. E questa cosa mi è piaciuta un po' meno. Sono sottigliezze, vorrei avere un sacco di Colin Firth nel nostro cinema, per l'amor di Dio, quindi va bene così. Credo che possa essere un buon film per poterne parlare, per poter fare una discussione, perché ha la proprietà di non lasciarti andare via così tanto turbato. Se ci vai via turbato è perché hai proiettato tu delle cose tue, della tua vita, delle tue emozioni personali. Il cinema può prestarsi anche a questo e può anche funzionare per questo. Buona visione a tutti!